Post-Covid, Dio piacendo, Covid permettendo, come verrà gestito dalla federazione? Grazie Norberto. L'ho accennato prima. È mia convinzione che la federazione si debba strutturare in maniera solida per creare le condizioni di una ripartenza normale nel 2022. Quindi noi, stante la pandemia ancora in atto che non dà segni di cedimento strutturali, saremo impegnati spero solo parzialmente per il 2021 e spero non sia tutto il 2021, ma dobbiamo impiegare il 2021 per togliere quella instabilità e quella transizione che ci porti a orientare e utilizzare soprattutto risorse non solo economiche, ma anche umane, professionali e tecnologiche per combattere che cosa? Il primo punto è l'inaridimento delle risorse economiche. Ho fatto un giro in questi giorni di alcune realtà, ho sentito alcuni presidenti e tutti sono preoccupati perché quelli che erano sponsor che oggi vorrebbero evolvere in sostenitori di un progetto e condividere il progetto nel processo e anche nel prodotto sono orientati a sostenere le progetto nel futuro, sono orientati a sostenere le proprie attività, giustamente a quei dipendenti che molto probabilmente se non perderanno il lavoro vanno in criticità. E quindi l'inaridimento delle risorse economiche obbliga la federazione a uno sforzo che come ho detto prima per un paio d'anni deve essere paritettico per far sopravvivere le società e poi evolvere magari in un sostegno che guarda anche il merito o i risultati che le società raggiungono nel territorio. Ci sarà una difficoltà nel reclutamento dei tesserati, ma anche qui io credo che sarà non più facile, uso un termine meno difficile, riprendere un discorso con i giovani legati proprio alla promozione del mini rugby, quello più basso nel limite di età, perché ho registrato anche nel mio territorio e come medico la volontà delle famiglie di portare comunque questi giovani di 6-8 anni nel campo per socializzare, indipendentemente dal fatto che le regole o le leggi consentano loro di riprendere un'attività o meno, ma vogliono stare insieme con i propri genitori e le proprie famiglie. Il settore che a mio avviso andrà maggiormente in crisi sarà il settore juniores, quei ragazzi under 14, under 16, under 18 che hanno avuto rubato dalla pandemia, non certo da noi, un anno, e che in questo anno si sono orientati o nella multimedialità con il computer o verso altre attività. La ripresa sarà difficilissima per queste categorie. Primo per la defezione dei numeri di tesserati, perché le famiglie penseranno che il rugby, che è uno sport da contatto, oltre che da combattimento, potrebbe creare le condizioni di essere ancora suscettibile di contagi. Il secondo è che è più facile riprendere un'attività andando a fare una corsa, il jogging, andare in bicicletta per il gusto di andare, andare in una palestra dove una rete divide e si socializza, rispetto al rugby, che è un rugby che obbliga a sforzi, difficoltà, impegno, prima ancora di ottenere come contropartita la gratificazione legata alla formazione nei valori che il rugby stesso dà e soprattutto nel ritorno dal campo, perché a questa età la gratificazione non è quella di pensare al professionismo. La gratificazione si conclude con quello che il ragazzo ottiene nel momento in cui entra in un rettangolo di gioco in un campo e si esaurisce nel campo. Poi siamo noi, quelli che siamo fuori dal campo, che cominciamo a far progetti sui nostri figli, sui nostri nipoti, che vorrebbero tutti essere paragonati nel calcio a Maradona, ma che in realtà sappiamo che è uno sport, il nostro rugby, molto duro e molto difficile. Allora, su questo ci vuole un poderoso investimento da parte della federazione, che noi abbiamo previsto nel nostro programma come un'attenzione particolare, soprattutto economica, ma anche di autonomia e di operatività nei comitati regionali. Quindi noi dovremmo star vicino con risorse economiche alle società, dovremmo star vicino ai comitati regionali che devono dare indirizzi precisi, comitati regionali che devono assistere anch'essi economicamente alle società più deboli, ma devono soprattutto essermi vicino nel settore giovanile, in quella che è la ricerca, la promozione, l'individuazione e lo sviluppo del talento con una formazione tecnica, un sostegno tecnico. Chiudo dicendo che c'è bisogno, infine, di attivare a livello nazionale uno o più tavoli di altissime professionalità, noi lo abbiamo fatto nella Federazione di Atletica Leggera, che apra un dialogo continuo da un lato con gli organismi che devono in campo sportivo trasmettere le direttive o spiegare le direttive che il governo ha emanato come legge e all'undo al CONI, al Ministero dello Sport e all'Agenzia Sport e Salute. E dall'altra parte questo tavolo deve interfacciarsi con il territorio e con le società perché oggi noi abbiamo ancora delle società che dicono cosa devo fare per essere certo di riaprire l'impianto sportivo, perché ricordiamoci che l'impiantistica sportiva in Italia è a carico delle autonomie locali, i comuni in genere, ma poi i comuni fanno una convenzione con le società sportive e danno in gestione, in appalto, l'impianto. Ora, alcune spese come la sanificazione, le spese che devono dividere anche le tribune, sul pubblico, gli spogliatoi ed altro, non possono essere spese a carico delle società. Bisogna che la Federazione prenda per mano queste società, le accompagni agli enti locali e faccia capire all'ente locale che il ruolo che ha lo sport nell'ambito non solo dello sport di alto livello, ma anche il formativo, ha necessità di investimenti e che anche l'ente locale deve farsi carico di essere vicino alle società, soprattutto per ammodernare, rendere confortevole, mettere in sicurezza, secondo le prestazioni normative, quelle che sono le opere di sanificazione dell'impianto. Ecco allora che questo tavolo di altissima professionalità potrebbe dare un grande aiuto. Concludo dicendo due cose. L'emergenza Covid fino a ieri poneva la Federazione in un percorso dove era importante, se non determinante, riprendere il campionato domestico, cosa che in parte è avvenuta ma che non si è ancora attualizzata. L'emergenza di domani sarà quella di sostenere quel settore juniores per renderlo ancora più solido e competitivo. E questa emergenza di domani in realtà è già oggi. Infine, non da candidato alla presidenza, ma come componente di rubisti per sempre, vorrei, mi sentirei di ringraziarvi, di dire tre volte grazie, 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 grazie a quei dirigenti di società, ai tecnici, e vi prego di trasmetterlo agli atleti e anche alle famiglie, che con il duro lavoro che hanno fatto durante la pandemia, continuano a fare e continueranno a fare, hanno operato in un tempo che io definisco drammatico, ho detto prima ci hanno rubato un anno, la pandemia ci ha rubato un anno, e hanno lavorato in un tempo drammatico, non solo per lo sport in generale, e per il rugby in particolare, ma soprattutto hanno lavorato per la società, che ha bisogno di coesione e solidarietà. E lo dico senza voler fare strumentalizzazioni sterili, quando vedo in altri campi, puntini, 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 per esempio la politica, dove più che seguire le criticità del momento, ci si orienta a raggiungere un posto che magari è un posto di preeminenza, e per fortuna che ci siete voi nel territorio, non nei talk show, ma nel territorio che opera fattivamente. effettivamente.